Il primo ministro albanese Edirama arriva in Abruzzo per una due giorni fitta di impegni dedicati ad un obiettivo importante, la macro-regione Adriatico-Ionica e soprattutto le opportunità di stringere affari per gli imprenditori abruzzesi nel mercato albanese. Io sono molto contento di essere qui e di vedere anche amici e poi di partecipare anche in questo evento organizzato mi sembra con grande serietà e stiamo anche parlando di progetti concreti ma soprattutto io sono molto interessato di vedere gli imprenditori per farli capire che il loro posto ideale è in Albania. Stringere accordi economici e creare un rapporto di partnership tra Abruzzo e Albania e si pensa intanto a ripristinare il volo Pescara-Tirana in vista di un più concreto legame tra le parti. Gli imprenditori italiani in Albania possono trovare in realtà tutto quello che sognano e non trovano qui in Italia. Io mi sento di casa dappertutto in Italia ma Pescara non è la prima volta e per questo mi trovo in un luogo perfetto.